Bello ragazzi, buonasera, oggi in abiti meno formali perché tutti i pro player stanno già nel torneo Comunque in ordine perché i soldi si giocano Giorgio Ma buonasera Giorgino Buonasera, buonasera Comunque Marzo, allora questa è la Marzagap seconda giornata, ma cosa vuol dire seconda giornata? Seconda e ultima giornata, ieri si sono sfidati persone che il gioco non lo capiscono più di tanto Ma si divertono come ho detto poco fa Oggi invece ci stanno i nerd scavatori nel gioco Oggi ci abbiamo chi I scavatori proprio sono motorizzati E per oggi signori miei c'è solamente gente che il gioco lo vede come ipotetico lavoro Gente che dà l'anima, dà il massimo Infatti la modalità è differente perché ieri erano build su Nuketown Qui si gioca E invece oggi è box fight Clicks box fight Sempre lo stesso prize pool Quindi partiamo con 10.000 euro di prize pool, parliamo 4.000 al primo, 2.000 al secondo, 1.000 al terzo E il resto basse Baffo vuole iniziare? Ma lo facciamo giocare allora a Baffo per primo Però mi serve Efesto Ah, fai il match di torneo Mi serve Efesto Tu hai Efesto nei Friends? Io ce l'ho tra gli amici, mi invidi pure Che lo invito io Assolutamente Ci siano tutti, ci sono tutti Vai Io c'ho un buffo Allora, ok, sì, vai Sto su Efesto, sto su Efesto E poi accettami per la tua stream Arriva subito, mentre ho certo Efesto che si trova sopra a Baffo Un 132 entra Ricordiamo ragazzi Vince il primo che arriva a 10 Eh, qua è serio ragazzi Qua danno veramente l'anima Ma è giusto che sia così Uh, è rimasto incastrato Baffo Baffo è rimasto incastrato 1-0 Quanto si arriva? A 10 Il primo che arriva a 10 Vince Eh, sì, Efesto è bello sudato Nel senso che proprio c'è Se vede proprio Allora, c'ha senso Però Baffo Baffo non la sta giocando Baffo non la sta giocando normale Oh, la giocata Oh, la madonna Sul lato è andato Eh, sì, sì Senza build Stanno 5 a 2 Per il momento Per Efesto Per ora però il vantaggio è È di Baffo Per come è posizionato Oh, bello qua Porca puttana Mamma che ha fatto Io ripeto Secondo me Baffo C'ha Baffo c'ha qualcosa in più Che sta facendo vedere adesso Non perché non è bravo Ma perché l'altro è più forte 3-6 Bareggio Primo game Si sta ribaltando Sei a sé Non sto coprendo la classifica È inutile che stai scrivendo cose Che non sai Vale Lo vedo io Cosa ho fatto la telecamera No Mamma qua Efesto però Come l'ha giocata Oh Quanto mancava 7-6 Urbo baffo qua Non riesci a prendere Bella Marzò È la madonna Porca È la madonna Piccolata più max 8-8 Piccolata più max 8-8 Penso stai cercando di allontrarsi il più possibile Da Baffo Eh giustamente gli manca l'ultima kill Efesto 9-8 È una bella botta Ma Ha sbagliato l'edit Ragazzi non avete ancora visto Bidiroio Quando arriveranno quelli Che secondo me lo possono vincere E secondo me Ho un 9-9 9-9 Ma se se sta a giocare aggressivo Sì sì Vedete capire dove va Baffo sta a 3.000 Però si prende 70 Si prende 70 in faccia Sicura Tanto può tornare comunque a 200 Se si dà il pesce A 190 Tanto è finita Finchia Ah Te l'ha lasciato Ho vinto 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 Passa a buff 10-9 Ragazzi state per vedere Quella che per me È una finale anticipata Come secondo round Allora Gabix Sa meno un botto Allora Gabix È veramente forte Gabix È veramente forte C'ha 0 de ping Però Ronny C'è qualcosa È Gabix che gioca Dalla Germania Sì 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 Però ragazzi Ronny Ronny non lo so C'ha proprio Non lo so C'ho il cuore proprio A Ronny Questo game Sarà il conservativo Al massimo Che non abbia più mass Ronny Ah Li finisce pure Gabix Quella è la luce L'ultimo muro Calma 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 Io sto qui Bravo Ronny Mamma mia Ronny Mamma mia Ronny Mamma mia Ronny Oh bello Qua fa male Qua è paura Assolutamente Assolutamente Giù Me li fatti conoscere tutti Che rischio Hai avvi di materiali? Nella No Nella visuale di Ronny Non c'era neanche Allora 4 per Gabix Io ce l'ho 4 kill Gabix Eh sì Allora 4 a 3 Ma fa certo che giocherà Se ha voglia di giocare Quanto meno Si è passato Oh Oh No Che ha sbagliato Gabix Madri Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Mi hai messo a materiali Ronny? 40 Di lenti Sta sfruttando questo Quindi Gli sta facendo finire Ma anche Gabi Prendo 100 Penso sarà Eh Pelo meno 100 Però lui sta facendo il pick dal basso Quindi per ora non sta costruendo Oh Mamma 5 a 4 Gabix Possete qual è una cosa che sto vedendo? Che Ronny lo sta rispettando troppo Ha paura È l'ultima Kill È l'ultima kill No no per carità Però gli lascia troppo spazio Cioè ora lui si è glitchato su delle scale Che si era messo prima allo spawn Mamma Eh vedi E lui se ne approfitta Ti prende lo spazio Guarda Eh guarda qua Salta pompata per darsi la spinta 10 a 5 Per Gabix Ma c'è stato Ok Martina mi ha chiesto già L'accesso Gli dico Un dito zido Però ha finito i maz Ha finito i materiali Martina Bello 99 Mottana che botta Ha finito i materiali anche Zid Ma ragazzi Mica il tifo non si può fare Oh Vuole se hai power di parte Giusto Però lo prendi al culo Perché è 1 a 0 Pizze non ha ancora giocato Sto partito vanno a finire Mamma mia Che picco Martina sta giocando Con un'intelligenza Mamma Brava Brava Bravissima cazzo 2 a 0 No Giulio non ha ancora giocato Porca Putana Oddio Ah per cazzo Stava non giocando a pushare 2 a 0 Preso la scala 2 a 1 Ci sono italiani No 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 Martina da Rechiavik Zid da Marrakesh No no Solo Vaticano Malta e Lugano In Svizzera Gli altri non possono Oh Martina Però eh Non passa il colpo Mamma mia Brava 3 a 1 Vincenzo ormai C'è il fratello Che lo schiavizza A fare i tiktok Tu non hai idea Dovamo partire assieme Per la Games Week E non è partito Perché il fratello Gli doveva far fare i tiktok Quel giorno Oddio Zid qua Di materiale Porca puttana Mamma martì Mamma martì Però io l'ho visto giocare E in uno di uno Sembra essere uno Che sa il fatto suo È un fenomeno È fortissimo Però gli prende l'ansia Bravissimo Cazzo Che kill 8 a 6 Sì Zid quando diventa white Diventa tre volte più forte Perché come starta Che botta Ha lasciato Ha contato male gli HP del muro E l'ha lasciato un HP il muro 9 a 7 In vantaggio Zid L'ultima ki per Zid E raga 9 a 7 Se Martina muore adesso Zid porta a casa È bloccato Decide di andare sotto Eh 17 HP per Martina Scavalca Ah 128 120 Non puoi qua 10 a 7 Grande partita Chi tocca ora? Eh io voglio Giulio Contro Kiri giusto? Il matchup sbagliato Perché Guarda qua No Giulio ha tiltato Ha tiltato Che ha fatto? Ci sta Ci sta Ci sta Un matchup Un matchup un po' sfortunato Per Giulietto Dai ma non ti riplexo Porco Calma Se vuoi saberlo Eh ma Bet Mitro Prime 3.26 Ah ok Ma si vede 3.26 800 6.6 6.4 Wow 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 Joey complimenti Veramente Sei Sei il fenomeno Comunque, ragazzi, continuo a disto, ho 4.000 euro, che per alcuni non sono niente, per altri... Ho boxato giusto. È tanto. Ti trovo mi avrei preso un cazzo. Pure rispetto... Mo non è cattiveria per Gabix, eh. Mo non so perché forse giocava contro Ronny, non lo so. Bravo! Bravo, 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 giù. Bravo qua. Bello come ha girato a sta scala, mamma mia. Bravissimo qua, giù. Non è d'accordo? Wow, madonna, come cazzo si è salvato, madonna, che fatto? Vabbè, sentitemi quale altro per lei l'avrebbe fatto. Questo cazzo di torneo. Illegale, veramente. Lì ha fatto la giocare, si deve curare, si è tirato tutto, 149 HP. Oh, c'ho in a... Mamma mia. Che maxi hai tirato, chiedete, è fortissimo, bro. Adesso chi è Marzù? Vincenzo. È il momento di vedere Zara Reckings. Vincenzo Zara. Guarda qua, Zara. Ah, pure Zara è bello forte, eh. Mamma mia. Stava già pronto col pompa in mano, lì. Lo vuole picconare, non ci credo. No! Ragazzi! Coglione di merda! Succhiame il cazzo, coglione di merda! Succhiame il cazzo! Ragazzi, il disrespect! Succhiame il cazzo! Impara a fare la matematica. Vai a scuola, vai! Eeeh, pre-fairino, eh? Pre-fairino di Vincenzo. Attenzione, che comunque stanno due a due, eh. Assolutamente. Ma non è mai vero. Io voglio vedere Zanji pure dopo. Si parlano pure. Sì, sì, sì. Oddio! Oddio! Non è vero. 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 Porco, ho due che sticca. Porca puttana. Ma! Che bella. Che bella. Porca droga. Ho detto, ci diamo in bellezza, dai. Chi ci sa ora? Siamo in un momento di pizza. Allora, issi. Siamo inizio a fatti di casa. Siamo inizio a fatti di casa. Non capirò un attimo. Novanta maz pizza. Basta, mi stavo. E basta, mi stavo. Oddio! Oddio! Ma che cazzo, vai! Cosa aveva visto? Eh, mi sa che ho detto pizzi, io, per quello. Sembrava izzi. Mamma, che botta! Sborrate. Eh, non un cazzo. Sborrate. Un po' chiuso a digiuno, ma vieni a me il calo di zuccheri, eh. Calma! No, tranquillo, ci siamo noi. Ok. Finiti maz, finiti maz, andata, 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 andata. No, andata, 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 andata. Ma che c'è, come dici? Oddio! 1-1, 1-1, 1-1. Chi vince tra questo fight va contro Zara, però, sì. Uuuu, 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 bello. Uuuu, uuuu. Si esalta, si esalta, si esalta, la cassa, la cassa la riprende, 2-2. Tu nel lobby, Leskowski. Leskowski! C'è un disvantaggio per lui, eh. Eh, è qua, ha 92 HP pizzi. Entra, 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 entra. In realtà è cambaccabile, secondo me. Eh, sì. Ragazzi per il gioco. Me, coglioni, l'ha aspettato. Lo stava trombando, però, eh. Non si credo. Eh, se gli piaceva Max, aveva vinto. Oh, Ronny, te non trovava Gabi. Terzo, secondo, ti arriva, ma facile. Mamma mia, regà, veramente panicate ha sparato a caso, ok? 10 a 3. Però, signori, è il momento di vedere invece il vincitore del torneo. Il Karim. Karim Belusi. Puttana, ragazzi. Il vincitore è Karim o è Belusi? No, Belusi. Belusi, ragazzi, è insana. Adesso Karim la mette tutti nel culo. Tu ti guardi. No, ma, non sta prendendo il minimo rischio. 100, eh? 133. Mamma mia. L'ho borrato. Eh, queste parole. Poi i capelli di Karim rimane, eh. Eh, sì, ma la rimane proprio, sai, la coccionina che scende? Devi vedere prima Marzia quando sta guardando Martina, regà. Porca puttana. Vedi, non facciamo... No. Ehi, che botto. Minchia. Madroia. Max, mi sa, eh. Nooo. Mamma, l'ho preso. Facendo il cosplay di Greg Will. Ragazzi, sapete, eh? Oh. No, ma questo si aspolerà, oh. Ah. Mamma mia. Bravo, bravo, però, bravo, cari. Gotto, ma a me non me ne frega un cazzo di che cosa vuoi tu. Ho fatto pure Max. Era Max. Minchia. Minchia. Guarda, mi arriva. Grazie, Gio, è sempre un piacere, guarda. Eh, che... Che devo fa? Però non ho detto chi. È vero, è vero, è vero. È andato. Mamma mia. No, l'ha picconato. Eh, Karim ha due build. Porca puttana. 4kp per Belu. Bella sto shot. Minchia, che cazzo di shot l'ha fatto? Mamma mia, Karim. Oh. Eh, Karim ha due build. Eh, ragazza, è troppo forte. Oh! Annaggia, raga! L'hai visto che stava a faa? Sì, che bruttissima roba, sincero. Cos'è successo? Era lì fermo a miracolo da fuori. No! Dai, cazzo! Dai, 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 dai. Purtroppo non posso dire manco quello che intendevo io. Ah, ho capito. Vabbè, ma a me piace un sacco in Pinzimonio quella cosa. Eh, sì, 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 sì. Mamma mia, raga, ha fatto una roba col cono. Mamma mia. Eh, qua sbagliate il signore. Eh, vabbè, dai. Dai, c'è. Io sborrò con i pittaloni. Berta. Quattaci, mi ha sbambiato io. Sì, sì. Pizzo alle quattro di notte, ti entra in disco e ti fa... Ah, ma guarda. Bellissimo. Finisce qua, 10 a 4. Signori, è il momento dell'ultimo game del girone. Schmeki contro Zanchi. Vabbè, però sono 30.000, però chi vince si diviso 4, ragazzo, eh. Oh, puttana. Ma non è 30.000 ai vincitori. Eh, esatto. No, è 30.000 ai vincitori. Eh, appunto. Eh, no, 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 ok, dico 30.000 nel monte premi e sono comunque grosse cifre. Ah, ti fa You Can See Me, gli fa 3 a 0. Ah, è vero. Mi si è girato un suono affatto in prefare così. Eh, sì. Ok. Vabbè, ragazzi. Smeg trova, eh. 4 a 0. Eh, per tutti quelli... Cioè, mi sta dicendo tutti che è fortissimo. Gioco con carini. Solo che evidentemente è... Forse un po', ma anche un po' d'ansia. Ammazza che gli ha fatto qua, die. Che? Ma aspetta se l'ha fatta apposta come ha... Ora stanno andando forte, eh. Eh, sì. Ma va molto più duro. Porca puttana. Ho sbagliato. Pare te, Marzo. Iiii. Ma che pare te? Ma che dici? Più per culo. Vabbè, sei all'inizio, dai. Bravo. Ragazzi. Ragazzi, mo' ve lo sto dicendo. Dai, l'ha fatta apposta. Andiamo. 6 a... 6 a 5. Prima è che io le 12 e mezzo, ormai ho il dentista. No, andata. Andata. Mi dà le ultime mascherine. Sono felicissimo. Mi dà le ultime mascherine. 8 a 7 per Schmettro. E balla. E balla. Ma che cazzo te balli? Aveva scritto una roba simile? Ha scritto, ma perché Marzai ha i capelli? Vabbè, ma non è roba mia allora, ragazzi. Oh, 9-8, eh. Te lo dico dopo. No, no, no. Eh sì, è 9-8 per Zanji. Sì, sì. È 9-8 per Zanji. No, sta ballando. Gli balla. Gli balla. Non ti lo insulta, ragazzi. Sì, 100%. Sì, l'ho letto. Eeeh, nooo. No, che stai a di? Minchia, ce l'ha fatto, porca troia. Calma, calma. Minchia, zio. Quello, perché adesso, signori, abbiamo completato tutta la fase iniziale. E andiamo a vedere i fight. Sono quattro ore. Andremo a vedere i fight che saranno. Itzi, Zara, Gabi, Schiri. No, Zagi, domani vai con l'assegno. A scuola. Belusi. E Zilp. Zangi. E magari possiamo far giocare a... Vogliamo fare Zara Itzi? Dai, facciamo Zara Itzi. Guarda che c'erano i wager e... Ah, sì, sì. Porca troia che sciomina. Ma non ha fatto il naga fatto. Ha tappato Zara, eh. Ma non ha fatto. Ha tappato il gioco. Se la casava. Ma sì, ma sti cazzi, ma magari... Cioè, non se la casava, scusa. Magari nel frattempo... Non ti prego, Giorgio, anche te no, ti prego. Non mi sento bene. Giorgio, sono con questo qua. Omeriggio 1 ti ci è andato amagato. La sera va. Madonna. Bravissimo izio. L'hai pagata che faccio il regalo di Natale ai miei genitori e li mando in un ristorante Stella Michelin. Vabbè, forse non bastano, vero? No! Al tabato, regà! Al tabato! Due volte l'ho letta quello. Eh, ho capito. No! Eh, che shot della madonna, però, che ha fatto. Ragazzi. 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 attualmente al record di sabo peraltro avevo visto lungo in canale ti devo raccontare una roba che shot zara in privato solamente mi piace le bici guardi messaggio ma dove l'ha scritto è in privato della cancellato subito 9 a 6 9 a 6 9 come 0 bilder 0 bilder per una sola per per zara quanta vita affara 102 104 deve ma deve shot allo è una pesante che c'ha 38 hp e 0 bild entrambi e gioco adesso ragazzi adesso bisogna far giocare kiri per farlo a te lui sta invita no no fa kiri perché mi sta invita da prima 2.000 oggettivamente una finale ma io vado che per fare tirato bello ma mamma mia 608 è clean ma un altro gioco comunque è fra clean o la madonna c'è gabix forse l'unico player che mi poteva battere ogni e oggi ma stas detto dai 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 devi essere ma tu che chiamata che cazza fa no mi ha dato un cazzo malibu che mi ha menato pesante ragazzi mi ha fatto raga ma non ha senso oddio come gli ha preso il muro si ma guarda l'area attività dai stavo parlando anche con i miei amici siccome è l'età migliore abbiamo vissuto cioè magari si è il livello proprio dirò allora siamo andati prima di tiktok è quella la roba capito si siamo andati prima di tiktok mentre fabio grosso segnava rigore kiri stava nascendo e io invece avevo 43 anni sul divano lo stavo guarda voglio di quello è stato un merda eh sì io che non è che sto qui minchia mi sono divertito ma è la power cap il 21 ma il 21 no io festeggio sempre il 22 comunque l'idea è di farlo finire per mezzo no tu indice e mezzo dai bene bene mamma mia ma quanto cazzo parca puttana ma ma che picchia li ha tirato ragazzi sembra bellix prime gabix questa forse mi ha rovinato completamente tutta la serata eh la madonna bello madonna mia ma che cazzo di riflessio come si fa allontanati kiri no no ragazzi stai scherzando stai scherzando ma non devi dire cacate non devi dire che sei stato massacrato in live mamma come l'ha geniato ho messato di nuovo sentiamo sentiamo io sono curiosissimo dall'altra parte signori è il momento di andare a vedere belusi baffo ragazzi come voi da professionisti del videogioco come la vedete questo è un fight pari è un fight è un fight è un fight è gabix belusi finale quindi secondo te proprio non c'è da parlarne proprio così no no baffo se la può giocare però belusi è belusi com'è che manda il link è buono oh per sapere tanto anche con quello non sai malibu oddio no la trovo oddio voleva picconarlo ma fa uno di vita ragazzi ma no che hit a farlo ma oddio no bravo ma gliela fegata full non è che vai ufficiale oh ragazzi 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 è il fight coro finale non hanno niente baffo baffo due a uno bello qua dì eh ma sì ma solo che si dice baffamocca amante ma che sta hitando che sta hitando ha finito il mazzo mi sa mi sa di sì da come si muove cioè sta correndo tutto sta facendo uno scazzo oddio non ci credo puttana che botta no puttana continua a dire questa cosa ma ragazzi che si fa beitare dai baldoni proprio di dove è arrivato gattuso ma che cazzo ho appena visto c'ho mai giocato tutti vi sento ma questo gioco mamma mia l'ho giocato io puttana non si vede che non hai mai fatto una partita 4 a 2 bello però per dire in mezzo è baffo belusi che si sta svolgendo adesso e vede in vantaggio belusi mi sa ancora di più adesso esatto ma che max li ha tirato tico 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 stanno con le nette 1 minchia ragazzi ma dai ma chi è che le pensa a ste robe ma che cono gli ha messo boh ma le sa tutte è bello un nerd schifoso è sotto aminoacidi pesanti ramificati mi sa oh baffo bravo baffo c'è a 4 c'è tipo nelle mie clip più viste dopo la faccio vedere mamma mia e che cazzo è fuori di testa baffo con cosa mira e spara col frigorifo quello resetta l'edit e ti prende tutto minchia anche secondo me ronny anche secondo me ronny ce l'ha dentro oh che tocca ma tu mamma mia sì ma che cervello zio porco vabbè però voi tornate ma cioè non è facile madonna che boh mamma mia bello è che bello sia un animale però sta gioca bene madonna cosa gli ha fatto vabbè ragazzi poco da di dai prossimo match è zid contro zanji che invito a prepararsi stava perdendo il fight più che altro ragazzi ma zid gioca con un orso addosso bro non ne ho più pari di te nemmeno c'ho la manica dire da su ah io non lo so io se devo giocastro tutto così e no come ma zio eh no ho alzato questa ho alzato questa c'abbiamo la foto c'abbiamo la foto mettilo sul balcone ragazzi ah quanti baci di madre questo è nuovo questo è l'effetto minchia che l'ha fatto oh porca ladra puttana ha fatto una cosa pazzesca ha fatto lo sai che però non era neanche tra il top sai da fine anno oh vabbè ragazzi ma zanji secondo me ha pippato ha pippato nel precoso eh nel pre-match eh vabbè ma all'inizio non stava giocando così ma non giocando con le palette con essenzaclo sembra un pierino no no ma che pierino però all'inizio non stava giocando così contro Schmecky ha fatto un espload pazzesca adesso visto che è appena giocato andremo a far giocare Zalagabix l'altra semifinale buona fortuna per questa prima semifinale ricordo che il vincitore di voi va in finale e invece il perdente di voi due comunque comunque si va a giocare la terzo quarto posto oh ragazzi ancora non è stata fatta una kill eccola là la botta la grande botta comunque è una sfida interessante nice ha smesso di usarli però vabbè già devi sene conto che chiunque abbia trovato io in rank è città ora che vi fa il join il join di Gabix guardalo eccolo eccolo è incredibile Zara stava oldando guarda stava oldando nessuno mi ha attaccato su niente no c'è acqua nice 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 ragazzi ma Zara ma che cazzo sta a fare no beh io ho farsi stato lui poi io neanche non neanche che lo doveva fare come è dato ma aveva preso la madre il cugino la zia nel fratello non solo i muri eeeh minchia qui oh questa è un gran classico guarda guarda l'exploit è arrivato tu ti vai a mangiare ti vai a mangiare oh cazzo oddio si è scavalcato no lo vuole così è brutta copri ammagedito però lui stasera quando stacca la stream si fa cosa cosa no ah that's crazy that's crazy no that's crazy e non ha un colpio nella R però ma come cazzo l'ha preso insane zara insane che cazza fatto crazy e anche quella di pizzo che sta nella casa hai derogato il cazzo no mi ha fatto 200 mi ha fatto uno di nuovo uno di nuovo però ragazzi calma perché intanto gabi complimenti perché sei il primo finalista sei finale quindi complimenti tu hai hai almeno 2000 euro in tasca almeno mentre tu zara ancora più tranquillo perché comunque mille ancora ti stai a giocare con chi perderà tra berusi e zangi che andiamo a vedere adesso buona fortuna ad entrambi e divertitevi ah rimangono in call ti parlano i due per la prima volta stiamo venendo a giocare berusi dopo che non si sa quante volte mi ha schiaffeggiato alle 162 è sicurato è sicurato tutto sì eh non sa se pensi devi dare guarda più a più video in questo caso di eh sì eh sì non ce l'ho fatto su me chi è morto sì l'ha preso la stesso tram di pizza ha fatto col lateral eh che ha fatto pizza col lateral eh l'ha ammazzato pure 3 a 1 guarda dove cazzo c'era messo mamma mia mamma mia mamma mia come io ho corso in ma che vuol dire quella cosa 5 a 1 sono cuscini che sono praticamente una sottiletta proprio piccolissimi questi sono quelli che invece sono giganti ah vabbè ma regà ma questo fa come cazzo gli pare cioè proprio non è va bene 7 a 1 forza Roma forza Roma oh attenzione 7 a 2 recupera anche Zanji tutti sono riusciti perché se no stavo pensando che se no non streamavo non streamavo domani e poi streamavo venerdì se c'è la roba che dopo tutti i giorni di tour de force in più la power cap che devo attaccare prima a capire è vero pure il 21 c'è la solo casca ma fanculo la power cap vabbè sono più soldi pure se la vinci che fanno eh la madonna ma come fanno a capire per farli attirato mamma mia ma spara cazzo sì ma insano 12 signor Belusi lei deve aspettare a giocare una partita perché in finale contro Gabix noi invece abbiamo il terzo e il terzo quarto possono fare perché chi arriverà a terzo sono quanti i soldi Marzò è mille euro al terzo però il quarto prende quanto l'ultimo quindi attenzione attenzione perché questa partita adesso che giocherai tu Zanji insieme a Zara sarà effettivamente una partita molto importante questa è il terzo o quarto posto si stava andando live ma che c'entra ma abitampare ti sparano non ti accolte ti sparano oii joining si joina così 2-0 no non c'è nessun dei tre no con oggi finisce tutto è andato troppo veloce 6-1 mamma mia eh Zanji è santra bello in testa io ieri notte ho fatto un paro dei box fight con con Belu con Ronny erano ieri erano le 5 che pizzo che ha chiesto a Gabix di aggiungerlo su Discord pizzo non andava a dormire scammano esiste una pratica land più che altro le danno capire eh sì però quantomeno sei abituato io non giocano build da mai da mai probabilmente c'è che sborra Ale attenzione a Zara mamma mia Zara sta a far comeback attenzione a Zara perché sei a 4 bello qua lo stava per fregare oh ehi che è sta bimata a metà che non ci sta più 8 a 4 per Zanji 8 a 5 per Zanji noi siamo guardando Zara adesso oh sta accelerando Zanji ma non ero io non ero io 8 a 6 ci avrei fottuto mamma mia gli ha rannato down mamma mia ragazzi ha rischiato però 9 a 8 gli ha detto ragione 9 a 8 no mi era aperto 23 mica non è entrato un colpo aia 9 a 9 ma non fa niente lo spazio mamma mia che prefire nice scusa Pippo scusa zio mamma però che giocata eh zio me lo sono preso veramente scusami zio che giocata mamma ragazzoni che cazzo di partita fatto un comeback notevole Zanji purtroppo sei ufficialmente il più zellato ti giuro ma è come con Gabix un po' come con Gabix più mi andavano aggro e più mi davano il cazzo te lo giuro è veramente difficilissimo quindi complimenti Zara super tirata perché hai vinto i primi 1000 euro del terzo posto siamo arrivati al momento più atteso la finale la finale di questo incredibile torneo comunque voi nella tasca 24000 euro come volte come gira ce l'avete lo sapevamo da almeno sei mesi che sareste arrivati voi due in finale ci siete arrivati veramente Gabix è stato l'unico mai cursato da The Real Marza che ti guarda e quindi adesso mi toccherà guardare te io ho visto ho vinto anche con il tuo corso prima si si ah ok allora l'ho superato la maledizione è stata rotta quindi io vi lascio vi lascio giù vi faccio giocare giocate con la tranquillità di chi tanto alla fine ci è arrivato avete fatto la storia insomma me lo è preparato sulla roba strana oh mi chiede l'ho dato eh la 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 eh la 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 Gabix ha missato parte forte 1 a 0 c'è bello che sta cercando di fare con gli strani ma attenzione si intero entrambi peraltro mi sa ha fatto più danno a bello 100 113 Gabi 128 ha fatto da bambino a bello 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 che momento ha avuto mamma mia me lo sta accesa oh bello dalle deregente di Gabi no gliel'ho sparato il pompa 2 a 1 Gabi gliel'ho messato e a Gabi non gliel'ho sparato il pompa 2 a 1 Gabi bello bello mamma mia bello oh il Martos ha holdato il muro l'ho holdato non ci voglio credere 2 a 2 attenzione attenzione madre timing bravo mamma ragazzi mamma mia bravo lo ammazza uno lo ammazza e l'altro lo ammazza a round dopo solo che se va avanti così Gabi finirà 10 a 9 e qua non ho messa però con la R e qua non ho messa con la R e qua non ho messi aia che bontana per la prima volta sotto la scala per la prima volta vantaggio di 2 di Gabi X5 a 3 credo che Gabi conosce qualsiasi X point penso davvero si 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 l'altro giorno che stavamo giocando insieme comunque alle 6 di mattina ha fatto mi devo svegliare fra un'ora per andare a squad oiii Beruchi non gli da spazio qua non gli da minimamente spazio l'ha massacrato zero damage taken che dalla voce inserirebbe però ce li ha mamma mia mamma mia che cazzo di hit la domanda è Dio lo punirà eh non c'è da chiederselo ragazzi belusi ragazzi belusi belu non ci scordiamo di varaschegli amarese 5 a 5 ma io penso che si conoscano alla grande ha missato entrambi i hit non si fanno male ooooh che cazzo dici belusi in vantaggio per la prima volta 6 a 5 mamma belu mamma belu mamma belu mamma belu non ci sta mamma non ci sta 7 a 5 in vantaggio di 2 non so quanti anni a belusi ma è piccolino anche lui 2002 2003 minchia che max come cazzo giocano eccolo il giocano di caso madonna che mamma mia no belu avevi fatto una roba fuori di testa vabbè ma non gli ha lasciato spazio ma come gli si è attaccato con l'attacca addosso non l'ha mollato un secondo e quando sbaglia uno l'altro lo punisce bene già è vero l'interno ai prova la paddata prova la paddata ma non gli entra 9 a 7 per per un match point minchia avevo detto 10 a 7 10 a 8 impazzisco vediamo non gli entra non gli entra il colpo non gli è entrato un colpo non gli è entrato un colpo a 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 facile colpato è strano infatti per quello stiamo dicendo merda la chiusa così bello bello se non sbaglio si aveva perso contro gabby ragazzi ma che cazzo di partita ragazzi madonna bella bella ragazzi devo dire ti senti ricco no non si può vincere da padre ragazzi impossibile sono d'accordo c'è il più che giocare di pick contro un mk no comunque alla fine nell'ultimo fighter non so come cazzo non ti è entrato il colpo di r se no eri morto era il matrix ma nemmeno mai è entrato io stavo guardando lui questa volta quindi avevi anche il peso di the real marza gabby io ha punito gabby grazie grazie e te belù 4000 se non te do due ristoranti a bari alla fine il torneo del barese chi cazzo te lo doveva vincere se non chi vede bene voglio ringraziare voglio ringraziare comunque tutti per averlo per averlo seguito voglio ringraziare chiunque mi abbia dato una mano e chiunque abbia partecipato è stata la prima volta che mi è stata fornita fiducia da epic games mondiale per fare una roba del genere mi hanno detto solamente con la stream di ieri nonostante quella di oggi sia stata comunque tanto seguita la stream di ieri è stato l'evento epic di uno che ha fatto la coppa quindi una cap di epic di un creator più seguita fino ad adesso quindi sono felicissimo di aver dato possibilità e nome a tutto ciò è stato per me un onore a tutto ciò a tutto ciò a tutto ciò a tutto ciò a tutto ciò